Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vogliamo parlarvi di BulkResizePhotos.com, un servizio online gratis che vi permette di convertire, comprimere e ridimensionare le vostre immagini senza scaricare nulla, senza installare nulla, senza registrarsi o effettuare alcun login social. Potete farlo comodamente online da qualsiasi browser web e sistema operativo. Come funziona? La prima cosa da fare naturalmente è procurarsi l'immagine. Dopodiché andate su questo sito che vi riportiamo nella descrizione e cliccate su scegli immagini. Selezionate l'immagine e qui potete scalarla, scegliere la dimensione del file, la dimensione esatta dell'immagine in larghezza e altezza o entrambi e cliccare su inizio ridimensionamento per ridimensionare l'immagine e salvarla con i parametri stabiliti. Oppure andare su modalità esperto, da qui potete scegliere anche il formato di destinazione e la qualità dell'immagine, oltre se avere lo sfondo trasparente o meno per il formato WebP o PNG, mentre per JPEG potete scegliere poi il colore dello sfondo. Fatto questo, di nuovo cliccate su ridimensionamento e come potete vedere l'immagine verrà salvata nuovamente nel formato scelto, nella qualità scelta, nei parametri da voi settati. Il tutto comodamente online.